Oggi voglio stupire Babbo Natale, voglio scoprire dove mi manderà prima che lui me lo dica. Ci sarà un indizio da qualche parte, no? Testa di cocco non troverai nessun indizio. Sai dove andrai oggi a scoprire i colori e le tradizioni del Natale? Trilino! No! Ma dove sono finito? Ah, in Ungheria, giusto? Ma no, siamo in Italia. Ah, Italia, che sbagliato, che scusa. Io sono Coconut. Tu come ti chiami? Giulio. Giulio, accomodati pure. Partiamo dal principio. Che giorno dell'anno lo festeggi tu il Natale? 25 di agosto, giusto? Sì. No, sto scherzando. Quando fa un po' più freddo mi sa che lo festeggi. Il momento più speciale della festa di Natale, qual è? La notte quando il Babbo Natale ti porta i regali. Ma tu sei riuscito a vederlo? No. Che cosa che fai tu per avere il regalo che vuoi? Scrivere la lettera. Ah, e a chi la spedisci? A Babbo Natale. A Babbo Natale? Vuoi conoscere le tradizioni di tutto il mondo? Sì. Allora seguimi che ti porto con me per presentarti una persona. Ora tocca a te. Raccontami la tua tradizione di Natale. Ti aspetto sui social e nelle piazze. Sto arrivando? Ho, 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 ho.